Che succede, Ellie? Ho fatto un sogno meraviglioso. Era una bella giornata. E l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era che desideravo... ...spaccarvi a metà e infilarmi nei vostri corpi... ...per essere un'unica famiglia felice. Cos'è questo, Danny? L'ho trovato. Calda. E strada. In that truth. Apri, tesorino. Tu non stai bene, mamma. Niente che un tuo abbraccio e un bacio non possano guarire. No! 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 Ora ce ne andiamo di qui, te lo prometto. Un giorno sarai una brava mamma, zia Beth. Davvero? Sì. Sai mentire ai bambini. No! 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 No!